Sei un contribuente business, quindi con partita IVA che spesso è credito IVA e non vuole aspettare la dichiarazione IVA per poter utilizzare questo credito? Segui questo breve video e ti spiegherò se tu contribuente business hai diritto ad ottenere rimborso o compensazione trimestrale piuttosto che attendere la dichiarazione IVA annuale. Chi ha diritto a richiedere rimborso o compensazione trimestrale il credito IVA maturato? 1. Requisito dell'aliquota media. Infatti, se tu contribuente business per un trimestre in riferimento hai un'aliquota media IVA vendite maggiorata del 10% inferiore all'aliquota media IVA acquisti significa che hai diritto a richiedere in compensazione oppure in rimborso il credito IVA maturato per quel trimestre. 2. Operazioni non imponibili. Infatti, se sei un contribuente business che effettua operazioni non imponibili ex articolo 8, 8 bis 9, se tali operazioni superano il 25% di tutte le tue operazioni attive in riferimento ad un determinato trimestre, assolvi al requisito delle operazioni non imponibili. 3. Beni ammortizzabili. Infatti, se il contribuente nel corso del trimestre preso in riferimento acquista più dei due terzi di tutto l'acquistato del trimestre, ha diritto a richiedere il rimborso o la compensazione trimestrale. Tale adempimento va inviato tassativamente all'Agenzia delle Entrate entro il trentesimo giorno dalla fine del trimestre preso in riferimento, ad esempio il 30 settembre alla fine del terzo trimestre. Tale dichiarazione va inviata entro il 30 di ottobre. Se io un contribuente non invio il modello TR richiesta rimborso o compensazione trimestrale all'Agenzia delle Entrate, posso ravvedermi? La risposta è no, perché se è trascorso il termine dei 30 giorni dalla fine del trimestre in riferimento, non è più possibile inviare il modello TR dei rimborsi o compensazioni. Tuttavia, se entro i 30 giorni si invia un modello che poi viene corretto, questa correzione può essere comunque inviata dai corsi 30 giorni. Ti è piaciuto questo video? Iscriviti al nostro canale YouTube e resta aggiornato dal sito internet.